Perché un ospedale così, se possibile, deve essere concepito e così deve funzionare? Dove l'unità spaziale diventa anche unità di pensiero e di organizzazione. Si racconta di ospedali multidisciplinari, ma cosa vuol dire questo se non far sì che negli spazi che noi mettiamo a disposizione il medico dell'emergenza abbia accanto a sé o comunque vicino al piano di sopra, piuttosto che nel reparto in fianco, il servizio di diagnostica per immagini, il servizio di assistenza intensiva, la sala operatoria. Questo è un valore incommensurabile che aver avuto la possibilità di realizzare questo ospedale ci ha consentito di mettere a disposizione per i professionisti, per i bambini e per i loro bisogni, per la città e la comunità. Grazie.